Studenti ancora in sciopero all'Istituto Faravelli di Stradella dove i guai all'impianto termico hanno costretto dieci classi che utilizzavano aule in cui il riscaldamento quest'anno non è mai entrato in funzione o soltanto in parte a seguire le lezioni da casa con la didattica a distanza. Un ritorno ai tempi bui della pandemia dettato dai ritardi e dai pasticci della provincia di Pavia, responsabile della struttura in cui già dalla 2022 si sono registrati i primi problemi. Martedì mattina il sindaco Alessandro Cantù e il consigliere provinciale Andrea Frustagli hanno incontrato gli studenti. È stato proprio Frustagli in qualità di rappresentante dell'amministrazione provinciale a spiegare che i guai sarebbero ormai in fase di soluzione annunciando un sopraluogo dei tecnici per verificare le temperature e mettere finalmente in funzione anche la seconda caldaia della scuola. Inutilizzabile fino ad oggi perché aveva spiegato la dirigenza scolastica sprovvista del condotto di scarico dei fumi dall'installazione avvenuta negli anni scorsi. L'accensione della seconda caldaia permetterà di risolvere qualche problema ma non tutti dato che gran parte di essi è dovuta ai caloriferi rotti e di fatto inutilizzabili. Anche in questo senso sono arrivate rassicurazioni sui lavori ormai imminenti. Tuttavia non è chiaro se gli studenti attualmente in didattica a distanza potranno tornare a scuola prima delle feste o se il loro ritorno in classe sarà rimandato a rientro dalle vacanze natalizie. Ammesso che a quel punto tutto sarà risolto visto che, come aveva precisato il dirigente Roberto Olivieri, i primi guasti ai caloriferi risalgono all'autunno del 2022 e da allora non sono mai stati riparati o sostituiti. Grazie a tutti.